Wimius. Con questo articolo si è giudicato un voto finale di 9 su 10. Questo è il migliore di questa selezione. È un articolo realizzato con ottimi materiali e con una qualità generale decisamente sopra la norma. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. Il voto complessivo di questo articolo di Jaber è di 8.6 su 10. Online, risulta essere il più venduto. Le sue qualità sono. Facile da usare. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Controllo remoto. Luminosità. Qualità dell'immagine. Zoom. In basso. Nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Il voto complessivo assegnato a questo articolo di Vanvo è di 8.8 su 10. È al momento il più votato con 1.238 valutazioni per questa categoria. I suoi punti di forza sono. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Controllo remoto. Qualità dell'immagine. Luminosità. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato.